All'inizio della riunione punto F attraverso Francesca R a cura di VB domanda All'inizio della riunione quando attendiamo che vi manifestiate io chiudo gli occhi e non riesco a stare con gli occhi aperti ho bisogno di chiudere gli occhi è la seconda volta che mi accade di vedere in maniera molto nitida due colori che si alternano che si muovono nello spazio ovviamente nello spazio nero che ho davanti e i colori sono blu-azzurro e una sorta di arancio che inizialmente sono separati e dopo si fondono quasi a creare una sorta di fiammella per fare un esempio come i colori e l'intensità di una fiamma prodotta dal gas che si accende hanno un movimento molto preciso sempre ondulatorio e poi a cerchi concentrici questo fenomeno diciamo di colori è fisico e avviene solo davanti alla mia retina o è una percezione di qualcosa è una percezione vibratoria del movimento che viene portato qui in questa sede per permettere l'espressione verbale vedi esattamente quello che la vibrazione ti può suggerire di ciò che sta accadendo energeticamente nell'ambiente è fisico e avviene solo davanti alla mia retina è fisico e avviene solo davanti alla mia retina